E' la prima partita vera della stagione, non solo perché si tratta di team cup. L'amichevole contro la rappresentativa casentinese è servita più a sciogliere le gambe che a testare la tempra degli uomini di Mister Sottili. I tifosi si sono già stretti attorno alla squadra. Saranno oltre 120 gli aretini nel settore ospiti dello stadio De Marmi, galvanizzati dal ritorno di Erpene Benassi, dagli arrivi di Muscardelli e Grossi. L'ago della bilancia guardando il valore dei singoli dovrebbe pendere dalla parte del cavallino, ma Stefano Sottili è quanto mai realista e non solo per scaramanzia. Tra le incognite maggiori non c'è certo il manterboso insintetico dell'impianto di Carrara, quanto semmai il carico di lavoro ben diverso tra le due formazioni. Da una parte c'è l'Arezzo che ha ripreso l'attività il 14 luglio a ritmo quasi incessante di due sedute al giorno, incentrate sulla forza oltre che sulla tattica. Dall'altra una cararese che è riuscita a salvare la Lega Pro dopo il fallimento e che attualmente è un cantiere aperto nonostante la permanenza del portiere Lago Marzini e il tesseramento dell'ex Lazio Simone Del Nero. Stando a quanto visto nei due test disputati da Yamaranto, l'Arezzo scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Benassi, in difesa Luciani e Masciangelo sugli esterni. Milesi al centro con Muscat, visto che Sirri negli ultimi giorni ha svolto un lavoro differenziato. La cerniera in mediana sarà formata da Foglia in coppia con Corradi, mentre alle spalle dell'unica punta Moscardelli aggiranno Durzi e Ianga sugli esterni con Grossio Erpen alle spalle del bomber ex Lecce. Calcio d'inizio alle ore 18, arbitro dell'incontro Lorenzo Bertagli della sezione di Pisa, coadiuvato da Francesco Gnarra di Sieno e Lorenzo Meozzi di Empoli. In caso di parità al novantesimo, tempi supplementari e calci di rigore.